Ciao a tutti, oggi prepareremo la panna cotta alla Nutella. Il tempo di preparazione della licetta è di 15 minuti più 3 ore per il raffreddamento in frigo. Gli ingredienti sono panna fresca, latte intero, zucchero, Nutella, colla di pesce, aroma di vaniglia. Andiamo il via alla ricetta. Abbiamo messo inizialmente ad ammollare la colla di pesce in acqua fredda, adesso mettiamo all'interno del boccale il latte, la panna, lo zucchero e l'aroma di vaniglia. E la facciamo cuocere per 7 minuti, 80 gradi, velocità 4. Aggiungiamo la Nutella. ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Aggiungiamo la colla di pesce ben strizzata ed amalgamiamo per 40 secondi a velocità 4. trasferire in uno stampo in silicone e riporre in frigo per almeno tre ore. La panna cotta è pronta, rimuoviamola dallo stampo e serviamo. Panna cotta alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.